Il maltempo non si placa e continua a fare danni. Castiglion Fiorentino dopo il disastro di ieri l'altro a Montecchio Vesponi è stato di nuovo colpito dalle precipitazioni e soprattutto dal forte vento che nella mattinata di oggi ha provocato la caduta di diversi alberi su tutto il territorio comunale. Uno di questi è caduto lungo la SR 71 a Vitiano all'altezza del ristorante L'Antica Pieve causando l'interruzione della viabilità lungo la strada regionale poi ripristinata in tempi brevi. Altri tronchi sono poi finiti lungo le vie periferiche della città sia lungo la via che porta al santuario del bagno sia lungo la strada della foce che nel parco delle comunanze. Nel pomeriggio i vigili del fuoco sono poi intervenuti per mettere in sicurezza un albero pericolante vicino la stazione ferroviaria di Castiglion Fiorentino. Ad Arezzo il consigliere comunale d'opposizione Alessandro Caneschi ha denunciato la situazione all'ex mercato orti frutticolo dove oggi le forti ventate hanno sradicato le lastre lamiera dell'immobile che sono volate lungo la strada. Tragedia sfiorata puntualizza Caneschi sulla sua pagina facebook. A Cortona nel day after la bomba d'acqua gli operai del comune sono al lavoro per ripristinare i danni provocati dal maltempo rimettendo a posto strade fossati. L'amministrazione comunale ringraziando tutta la macchina della protezione civile comunale ricorda i privati proprietari di terreni di porre la massima attenzione nella manutenzione dei propri fossati così da aumentare la difesa idraulica del territorio.